Musica Salve a tutti amici tubers e bentornati dal vostro goletto reggio rosso 94 come vedete questo è un video un po' on the road se così si può dire perché sono andato a fare una camminata, anzi una breve corsetta ma mi sono accorto dopo 200 metri che attualmente ho la freschezza che può avere un Maicon dopo un sabato sera passato con gli amici al bar ma comunque dopo questa inutile premessa voglio parlarvi di un nuovo video inerente al calcio mercato che riguarda Antonio Rudiger, l'unico tedesco che si chiama Antonio ma a partire scherzi si dice che Rudiger sia veramente a un passo dall'approdo al Chelsea di Antonio Conte per una cifra vicino ai 25-26 milioni di euro e qua allora diciamo che il gruppo di tifosi giallo rosso sia un po' diviso tra chi lo vuole tenere comunque assolutamente e chi invece è contento che ci diano così tanti soldi per un difensore che non è nulla di che allora io devo dirvi la verità io mi sono un po' stancato del fatto che ogni anno ci deve essere sempre una rivoluzione difensiva guardiamo per esempio l'anno scorso avevamo quattro centrali e ne è rimasto uno uno e mezzo considerando anche Castan anche quest'anno rischiamo di mandare via Rudiger Jomber probabilmente andrà via anche Castan e dovremo assistere all'ennesima rivoluzione dei centrali in alcuni casi mandare via un difensore è giusto perché alla fine Jomber ha dimostrato di non essere adatto ai colori giallorossi anche Castan merita di fare un po' di riposo così si può dire all'estero in Brasile preferibilmente però secondo me giocatori come Rudiger dopo che stanno cominciando ad essere pronti per la maia giallorossa mi sembra un po' inutile darli via è vero che 25 milioni sono una bella somma però considerando che negli ultimi mesi con la Roma è cresciuto veramente tanto 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 io ci penserei due volte prima di accettare la prima offerta e chi si è visto si è visto perché adesso avresti bisogno di altri tre centrali se tieni soltanto Manolas perché Manolas mi auguro che rimanga però se teniamo solo lui ma andiamo via tutti quanti bisognerà usare i soldi che abbiamo per prendere almeno altri tre difensori di livello uno forte che deve fare il titolare e altri due che devono fare le riserve si dice che arriverà Caceres però già le voci dicono che arriverà uno tra Caceres e Van der Wiel anche se non capisco veramente perché perché se Caceres fa il centrale e Van der Wiel fa l'esterno li prendi tutti due a zero qual è il problema così grave? cioè ci mancano i soldi pure per prendere i giocatori a zero non penso che siamo messi così male però comunque voglio dire anche un'altra cosa è vero che comunque 25 milioni sono tanti per un difensore che ha fatto bene metà anno però io non so perché dobbiamo sempre vendere ogni tanto un difensore centrale bisogna sempre vendere per comprare io pensavo che dall'arrivo degli americani si potesse avere una solidità economica buona e invece adesso sembra che se non vediamo qualcuno bisogna per forza vendere qualcosa poi certo se magari mi assicurassero con frasi del tipo noi vendiamo Rudiger ma teniamo Manolas, Nainggolan, Pjanic, Salah eccetera eccetera allora è un altro conto allora se io devo proprio obbligatoriamente firmare il contratto che devo per forza vendere uno tra Manolas, Rudiger, Salah, Nainggolan e Pjanic per dire questi nomi alla fine mi manderei via Rudiger è vero sì che però anche a centrocampo per me Pjanic per quanto è considerato da molti un centrocampista sacrificabile per me non lo è assolutamente per me adesso sta cominciando veramente a diventare un campione e venderlo adesso per quanto ci faressi 38 milioni sarebbe una scelta sbagliata secondo me soprattutto se metti caso lo daremo alla Juve che è la nostra rivale per lo scudetto e quindi io sono a metà e metà diciamo nel senso che io non lo manderei via Rudiger perché comunque punto molto su di lui e ha dimostrato in questi ultimi mesi di sapersela cavare se però deve essere fatta obbligatoriamente una gestione alla fine sono disposto anche a farla considerando che lo daremo anche in una squadra estera e che non ci potrà dare problemi per il campionato però comunque se lo cediamo io mi aspetto dalla società uno sforzo grandissimo per rinforzare tutta la difesa e non solo il reparto centrale mi riferisco anche al reparto terzini destri e terzini sinistri perché abbiamo dimostrato in questa stagione che il problema grave non è l'attacco perché abbiamo fatto 85-86 gol ma è soprattutto la difesa perché abbiamo preso la metà dei gol fatti e una squadra che fa 80 gol ma ne subisce 40 secondo me deve migliorare più in difesa che in attacco poi non so voi quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della possibile cessione di Rudiger al Chelsea è un video un po' veloce però volevo farlo per dirvi un po' cosa ne pensavo io fatemi sapere cosa ne pensate voi e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti